Lucio inizia una nuova stagione di collaborazione tra la PB63 Lady e Radio Castelluccia. Sì, una collaborazione straordinaria iniziata lo scorso anno, a parte che Radio Castelluccia ha sempre eseguito lo sport battipagliese e in particolar modo la polisportiva battipagliese da anni già ai tempi della basket maschile. Quest'anno con la Serie A1 abbiamo deciso di concretizzare ancora di più l'accordo insieme con la PB63 Lady per una stagione da seguire passo dopo passo, dagli appuntamenti settimanali con le ragazze e con il coach all'appuntamento domenicale con le partite sia interne che esterne della PB63 in diretta sulle frequenze di Radio Castelluccia, grazie ovviamente alle radiocroniche di Andrea Laganà e di Pietro Russo che è un grande intenditore di basket. Non solo collaborazione dal punto di vista ovviamente radiofonico, cureremo in particolar modo l'impianto audio e quindi tutta la musica che verrà ascoltata all'interno di questa nuova e straordinaria struttura che è il palazzauri, ma anche una sorta di coordinamento per quello che riguarda le hostess, il servizio buffet per l'area stampa e tutta una serie di servizi che quest'anno verranno proposti qui all'interno del rinnovatissimo Palazzauri. Quindi mi raccomando seguite la PB63 Lady fuori casa sulle frequenze di Radio Castelluccio in casa venendo al Palazzauri. Ecco, prima della gara ufficiale che arriverà a metà ottobre ci sarà l'opening day, ci sarà anche Radio Castelluccio? Sì, è una straordinaria iniziativa grazie anche all'ufficio stampa della PB63, quindi ti ringrazio e ne approfitto. Ovviamente ci sarà la presenza di Radio Castelluccio, due giorni seguiremo tutte le squadre d'Italia del basket femminile di Serie A1, sarà una due giorni davvero bellissima dove potrete ascoltare non solo la radiocronaca in declara della partita della PB, ma anche tutti i flash delle altre radiocronache e seguire questa prima giornata, con le applicazioni sull'Equolo Store, su Google Play, ovviamente anche sul sito internet di Radio Castelluccio e sui nostri social network. Grazie.